Go perso il taquin, go perso i ochai. Quante volte nelle nostre case abbiamo sentito dire questo e subito arrivava qualcuno che ci diceva non ti preoccupare, ti recito i sequeris. I sequeris infatti sono nella tradizione popolare religiosa una recita ripetuta più volte per ritrovare gli oggetti che si erano smarriti o nascosti nelle nostre case e la recita di queste preghiere si fa risalire appunto l'appartenenza a Sant'Antonio a Padova di cui domani ricorrono i festeggiamenti quindi il 13 giugno da sempre è una data nota per il ricordo di questo santo che in realtà è figura non padovana di origine ma portoghese, infatti è nato a Lisbona ma che è arrivato a Padova. Se la particolarità è che la basilica che porta il nome di questo santo non ha una documentazione, non ha infatti non si conosce l'architetto o gli architetti che l'hanno progettata anche se in realtà si fa un po' si richiama un po' la basilica più nota di San Marco a Venezia. Se si fosse interessati a visitare la città di Padova e la figura del santo basti pensare che dalla mia struttura quindi da Valgrande a Padova in un'ora di strada si arriva velocemente e quindi può essere anche questo un pretesto per arrivare qui in Polesine e per dedicare una giornata alla meravigliosa città di Padova. La città di Padova che con tutti i suoi monumenti, con tutti i suoi musei, con il giardino, con l'orto botanico merita veramente una visita così come pure io oggi mi merito dopo questa ciaccola il mio sfureso giornaliero. Ciao!